An Agrigento alla Curia Arci Vescovile, conferenza di presentazione delle iniziative comprese nella rassegna Natale sul Colle. Natale sul Colle, edizione 2019. Da una collaborazione tra l'Arcidiocesi di Agrigento, col Museo Diocesano e il Centro per l'Evangelizzazione e la Chiesa di Sant'Alfonso, l'Associazione Non So Stare, Antos che gestisce i servizi di valorizzazione e frizione della cattedrale e l'Associazione TTT, una proposta per rivalorizzare lo spazio urbano che si trova tra la Via Duomo e la Via Oblati. Si tratta di un progetto che mette insieme il protagonismo di diverse realtà associative ed imprenditoriali, che vede l'apporto delle competenze, delle capacità economiche e della capacità progettuale. Un programma ricco che prevede l'inizio del giorno 15 di dicembre con il primo momento, il concerto dei Chattepitre, la presentazione della cappella di San Giuseppe dove era predisposta prima la Natività, e poi le novene di Natale, il concerto dei Quartet Folk in cattedrale e all'Abbe Gioeni, una nuova realtà che nasce dall'intesa tra l'Associazione Non So Stare e l'Operapia Gioenina con la Dioce, si verrà allestito un piccolo villaggio di Natale. Casette, degustazioni, attrazioni per bambini, mostre di artigianato e concerti, diverse realtà che hanno dato la loro collaborazione. Il Natale sul Colle quindi si sviluppa tra la cattedrale, la chiesa di Sant'Alfonso e l'ex istituto Gioeni dove per tanti anni sono stati i Salesiani, anche con la bellissima chiesa di San Giorgio che verrà per l'occasione rivitalizzata e sarà un centro di accoglienza per quanti, venendo a visitare, vorranno vedere dei film animati in particolare per i bambini. L'Associazione Non So Stare è in collaborazione con l'Associazione Mudia e l'Associazione Anthos, si occuperà di rianimare l'istituto Gioeni, l'istituto prossimo alla chiesa di San Giorgio, infatti diventerà teatro di un villaggio di Natale con eventi organizzati ad hoc, degustazioni, stand natalizi, animazioni per bambini, proiezioni all'interno della chiesa di San Giorgio, delle piccole installazioni e degli eventi musicali a cura dell'Accademia Le Muse. sarà per noi un'occasione di far conoscere ancora meglio alla città questo luogo straordinario che è il Gioeni, un luogo ricco di potenzialità e all'interno di queste serate organizzate al Gioeni presenteremo anche quello che sarà il progetto futuro del Gioeni Hub, quindi l'intenzione di riattivare questo spazio attraverso la partecipazione di tanti giovani, associazioni, gruppi di professionisti che vogliono contribuire allo sviluppo sociale e culturale della città, al fine appunto di dare la possibilità a tutti di avere uno spazio di incontro, di confronto, di scambio nel quale dare vita a quelle che sono le proprie ambizioni sociali e culturali. Speriamo che questo sia solo l'inizio di un percorso che ci porterà, grazie al lavoro straordinario che fa da anni ormai la Diocesi, a riattivare anche questo spazio, a renderlo disponibile per tutta la città al fine di migliorare e ancora di più valorizzare quello che è la vita nel centro storico e la vita in generale culturale e sociale della città. 20 e 21 dicembre, venerdì e sabato, dalle ore 18 alle ore 22 si terranno queste iniziative, ma insomma davvero speriamo che sia solo l'inizio di un ambizioso percorso che intendiamo portare avanti in collaborazione con la Diocesi.